gruppo artistico italiano che prese il nome dal mensile di arti figurative forma 1 sul primo e unico numero della rivista venne pubblicato un manifesto programmatico in cui i fondatori del gruppo riconoscevano nel formalismo cioè in un superamento del realismo verso forme astratte l'unico mezzo per rinnovare l'arte e sottrarsi a quelle che venivano definite influenze decadenti psicologiche ed espressionistiche il panorama artistico italiano era all'epoca fortemente diviso tra una tendenza neorealista di impegno civile in linea con le direttive del partito comunista italiano e una tendenza astratta portata avanti da vari gruppi oltre a forma 1 a cardi a tardi consagra dorazio guerrini perilli san filippo e turcato sono i fondatori del gruppo il mensile venne fondato nel 1947 il mensile il gruppo vennero fondati a roma gli artisti di forma 1 proclamandosi all'inizio del manifesto formalisti e marxisti affermavano la possibilità di conciliare la loro posizione politica e la scelta di una poetica non figurativa in linea con le più avanzate esperienze europee e più rispondente al sentire moderno la forma era dichiarata mezzo e fine dell'arte a questo non impediva un'attenzione a tematiche politiche e sociali come emerge dalla produzione di alcuni esponenti del gruppo se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando grazie a tutti grazie a tutti